Non è la natura ma l'uomo, dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente di fama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è zaffico. Il traffico urbano, schiavitù della società moderna, uno dei mali di Palermo, come dice nella scena cult del film Johnny Stecchino, il bravissimo Paolo Bonacelli che veste i panni di un ambiguo personaggio nel film del popolare comico toscano Roberto Benigni, amatissimo in tutto il mondo. Il capoluogo siciliano è la città più trafficata d'Italia e la sesta nel mondo per indice di congestionamento, secondo il TomTom Traffic Index 2014. Ma il traffico di auto in città e i suoi nefasti effetti sulla qualità della vita non sono, una volta tanto, prerogative solo italiane. Inquinamento atmosferico, rumore, insicurezza per gli utenti deboli della strada, congestione e rallentamento dei tempi di spostamento per tutti, un fenomeno conosciuto un po' a tutte le latitudini anche dagli automobilisti di Montreal. Ma loro hanno come osservatore di prima fila e ideatore di progetti innovativi l'ingegner Ottavio Galella, uno dei più grandi esperti della gestione del traffico nel mondo, secondo Robert Scalli, noto giornalista dell'emittente televisiva pubblica americana PBS. La sua eccellenza nella gestione della mobilità e la motivazione del premio Lucan Insigni 2012, in qualità di portavoce qualificato dell'identità lucana, radice culturale dei suoi tanti successi. Ottavio ha avuto 13 anni per gustarsi le atmosfere del centro storico di Muro Lucano. Poi, trascinato in Canada, si porta con sé il sogno di poter collegare, mettere in comunicazione il cuore storico delle città con il resto delle arterie stradali. E così vuole fare con la sua Montreal, grazie al progetto del Mobile Gateway Old, un ponte mobile che collega il porto antico di Montreal con la più recente e frequentata area di Chandrappo. Una struttura mobile che mette in comunicazione le due sponde del fiume San Lorenzo. Sarà un'opera di mobilità urbana destinata al passaggio di navi, automobili, pedoni e biciclette. Sarà infatti il ponte ciclabile più lungo del mondo. L'infrastruttura è solo una parte della pianificazione strategica del trasporto in città. Galella raccomanda un pedaggio variabile, in modo da modulare la domanda di traffico regionale in funzione della capacità delle infrastrutture. L'offerta di trasporto pubblico può essere così migliorata e incrementata dai guadagni provenienti dal pedaggio stesso. Stella polare dell'attività di Galella, d'altronde, è l'individuazione e la pianificazione di un sistema di mobilità integrata. Pedaggi, piste ciclabili e pedonali, trasporto pubblico e privato, trasporto condiviso, come carpooling e car sharing. Tutto questo insieme significa una mobilità sostenibile. Per Galella, i problemi di congestione del traffico non si risolvono unicamente con la creazione di nuove e costose infrastrutture. La soluzione si può trovare solo con una corretta gestione della domanda dei trasporti, individuare quel punto di equilibrio che, grazie a misure incitative, renda conveniente usare mezzi diversi dalla propria auto. La problematica della congestione è che quando la demanda dipende la capacità, anche di 1%, la congestione si fa sentire 10 volte più importanti. Il s'agit di ecrasare questa pointe, di l'etalo, e con una diminuzione della demanda di 10%, la fluidità viene. E questa fluidità ci dà l'opportunità di creare, di avere riservi per il trasporto collettivo, sul riso autologico, sull'ensemble del riso arteriale. Ma Ottavio Galella non è solo con passo e squadretta. La sua filosofia della connessione, del mettere in contatto le diversità, si ritrova anche negli impegni culturali che da sempre riserva la sua terra d'origine. Ha collaborato con la regione Basilicata anche per la settimana lucana del 1999 a Montreal. Grazie a lui i canadesi sono venuti in contatto con la bellezza e l'arte lucana. Tre mostre. La prima di tipo archeologico, il tesoro del sud, Basilicata Terra di Luce. La seconda dedicata al patrimonio naturalistico, Basilicata Angolo Dorato del Sud Italia. E infine una mostra fotografica dedicata alle madonne lucane del XIII-XVIII secolo. A distanza di pochi anni, Ottavio ha portato per la prima volta le tele di Carlo Levi nel Nord America. Insomma, se Benigni conoscesse Ottavio, ne stimerebbe sicuramente la dote di uomo costruttore di ponti tra le città e tra gli uomini.